Hey Fighters! Are you ready for the game? Leone Farfalla Rana Cavallo Scoiattolo Pesce rosso Coniglio E ora sotto con il prossimo animale. Coccinella Giraffa Salmone Tartaruga Volpe Delfino Criceto E ora sotto con il prossimo animale. Zebra Maiale Ippopotamo Koala Orso Orso Alpaca Ape Pappagallo Pappagallo Moffetta Moffetta Tigre Tucano Lince 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 Lama Lama Cocodrillo Pappagallo 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 Serpente Pappagallo 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 Dromedario 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 Pappagallo 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 Leone Leone marino Iguana verde Pappagallo 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 lombrico, sgombro, emu, murena, macaca, e ora l'ultimo livello, quello impossibile. Sei pronto? Allodola, Sibetto, Ibis Carlatto, Flamingo, avanti con il prossimo, Drago di Comodo, Clamidosauro, Pesce Lanterna, Cuculo, Pesce Siluro, Pesce Luna, Arapaima, Storione, Beluga, Mangusta, Libellula, Pipistrello Vampiro, Armadillo, Armadillo, Gnu, Donnola, Grifone, Criceto Dorato, Criceto Dorato, Showbill, Volpe Artica, Nutria, Barbagianni, Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di iscriverti al canale per altri contenuti.